in registrazione ok c'è qualcuno che si vuole mostrare puoi smettere per piacere allontanarti dalla scatola grazie c'è qualcuno che vuole mostrarsi o dire il suo nome c'è qualcuno che si vuole mostrare puoi smettere per piacere allontanarti dalla scatola grazie c'è qualcuno che vuole mostrarsi o dire il suo nome